Un'opportunità di lavoro per giovani e meno giovani, un'opportunità per l'ambiente e un'opportunità per l'economia regionale. Così può essere considerata l'apicoltura, un'attività che in regione è partita da anni grazie a pochissimi professionisti del settore che hanno creduto in questo prodotto, il miele, che sta conoscendo un boom di vendite e di richieste a livello mondiale. Richieste che la produzione nazionale e regionale non è ancora in grado di soddisfare se non in minima parte. Per questo l'apicoltura vuole lanciare un messaggio attraverso la prima giornata regionale che si è tenuta a Mirabello. Bisogna creare una seria filiera legata alle api e a tutti i prodotti che questo insetto prezioso è in grado di produrre. Uscire quindi dall'improvvisazione e fare rete, un progetto in cui Conf Cooperative crede fermamente. Noi siamo fiduciosi come Conf Cooperative e stiamo promuovendo questa attività da diverso tempo, però ancora ci sono quegli obbisti che non danno qualità al nostro miele. Invece il miele molisano merita e sono sicuro che questo tipo di connubio tra le diverse associazioni dell'apicoltura e Conf Cooperative può creare un marchio di qualità e promuovere un prodotto molisano che sicuramente potrà essere ambito a livello regionale e anche nazionale. L'interesse per il settore sta crescendo. Basti vedere il numero delle persone che ha frequentato i corsi organizzati all'Università del Molise per prendere l'attestato consegnato in occasione dell'incontro e iniziare seriamente l'attività, magari sotto forma di cooperative o rivolgendosi a chi fa da anni questo lavoro. Mentre i detentori di alveare in regione sono 150, ma i professionisti, ossia coloro che svolgono il lavoro a tempo pieno, sono pochissimi. Purtroppo in Molise sui 150 ci hanno 70 di apicoltori, quindi detentori e professionisti, solamente un 3-4% è professionistico, per cui è imprenditore e quindi parliamo di un numero di 5-6 aziende. Il miele è uno dei pochissimi prodotti, ma non solo in Molise, ma in tutta Italia, di cui c'è una richiesta e invece non riusciamo a condentare questa richiesta perché c'è una produzione bassa. Vuoi perché, ripetiamo, i professisti sono pochi, vuoi perché comunque il miele risente anche delle calamità naturali, una serie di cose.